Voi pensate l'anno prossimo di fatturare una cifra che uscilla a 370-80 mila euro, giusto? Se tutto va bene, sì. Eh, se tutto va bene, siete nella merda, eh. Il marito di mia figlia mi guadagna meno di un rumeno, allora tanto voleva che si sposasse in rumeno. Fabri. Anche perché rumeni, pugliesi, insomma, no? Siamo lì. Sto vedendo se ci sta il lettino, però non puoi capire, è meraviglioso perché ci sta, è perfetto. Domani parto per l'Erasmus. Tu quando sei tornato? Nel 2005. Ho fatto vedere il vostro documentario a Betsy, il mio capo. L'ho convinto a prendere voi per questo lavoro qua. In una parola, ragazzi, one word, Africa, 150k, dovremmo farci. Quanto? Ma è meglio fare cose pulite con soldi sporchi o cose sporche con soldi puliti? Fermi qui. Che problema c'è? Africa. E poi, anche se sono soldi sporchi, in Italia chi ti scopre? Una vita in vacanza, una vecchia che parla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta. Ma la G per cosa sta? La G. Otto sono i paesi coinvolti, ma la G è la G di Genova. A me fa ad essere Genova, scusa. L'anno scorso era Okinawa, cos'era? O Otto? Non so. Vogliamo una cosa forte. Il sindacato questa volta deve osare. Un po' di estro, non so, di mobili, boldoni, mobili... Ce l'ho, ce l'ho io. La vado adesso. No, non scherzo, siete veramente una merda. No, non so, non so, non so, non so, non so.